Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di me. Difatti sono passati più di otto mesi da quando ho aperto questo canale e non mi sono mai presentato realmente. Ecco perché oggi ho deciso di farlo. Per chi non lo sapesse, mi chiamo Francesco Calace, ho vent'anni, vivo a Trani, una piccola cittadina in provincia di Bari e attualmente lavoro nelle aziende agricole di famiglia, quindi faccio l'agricoltore. Un lavoro a cui devo molto, poiché avendo iniziato a lavorare fin da piccolo ho avuto l'opportunità di comprendere dei valori che solitamente a 13-14 anni non avrei mai appreso. La mia giornata tipica è strutturata così. Mi sveglio per le 5-5.30, vado a lavoro, torno a casa per l'1-1.30, mangio, mi riposo e dalle 16 fino alla tarda sera studio, leggo, mi dedico ai miei investimenti e a questo canale YouTube. Da dove è nata l'idea di aprire un canale YouTube? L'idea in realtà nacque tanti anni fa, quando avevo 14-15 anni, con una delle persone a cui tengo di più, il mio migliore amico Michele. L'idea era quella di pubblicare dei contenuti sul fitness, più nello specifico, lui avrebbe dovuto condividere dei contenuti inerenti alla pesistica e io alla mia più grande passione dell'epoca le arti marziali, più nello specifico il stand-up. Idea però mai realizzata. A distanza di anni avevo sempre in mente l'idea di aprirmi un canale YouTube perché era qualcosa che mi aveva sempre affascinato, ma non l'ho mai fatto. Così nel 2020 mi sono deciso finalmente di provare, di buttarmi in questo mondo e così ho aperto questo canale. Perché ho voluto iniziare questo percorso? Con il canale del fitness l'idea era quella di farci sponsorizzare da un'azienda per poi farci spedire le proteine in polvere. E sì, non sto scherzando. Essendo che prima i vari YouTuber di fitness facevano delle varie challenge dove provavano diversi tipi di proteine in polvere, noi avevamo la voglia di in un certo senso imitarli, soltanto che non avendo una carta prepagata non potevamo acquistarle. E allora abbiamo pensato appunto ad aprirci un canale YouTube, arrivare a 3.000-4.000 iscritti, farci sponsorizzare da un'azienda e farci poi spedire le proteine in polvere. Sì, tutto ciò soltanto per le proteine. A parte gli scarsi, per me questo canale YouTube è molto più di un semplice canale YouTube. È una sfida contro me stesso. Voglio dimostrare appunto a me stesso che posso farcela. Voglio abbattere definitivamente la mia timidezza. Se notate dai primi video, è abbastanza evidente. È riuscire ad essere il più spontaneo possibile. E non solo. Penso che si possa imparare davvero tanto creando video. Ad esempio, migliorare le abilità di scrittura, le abilità di comunicazione, oppure apprendere sempre nuove informazioni, perché dietro a un video ci sono svariate ricerche che faccio e per ogni ricerca solitamente tendo sempre ad imparare qualcosa di nuovo. Insomma, YouTube non è soltanto una grande sfida contro me stesso, ma è una grande opportunità per crescere. Nella mia vita ho vissuto diverse fasi e avuto diverse passioni. Dai 12 ai 13 anni buttavo letteralmente le mie giornate di fronte alla PlayStation. Dai 14 ai 19 anni ero quasi ossessionato dalla palestra, più nello specifico dalle arti marziali, che ho praticato per più di 5 anni a livello agonistico. Mentre dai 18 ai 20 anni, la mia più grande passione è appunto la finanza. Una passione nata non così per caso. Mi sono sempre piaciuti i numeri, fin da quando ero piccolo, tant'è che contavo qualsiasi cosa. Quando iniziai a guadagnare i miei primi soldini, perché come vi ho detto, già dai 13 ai 14 anni ho iniziato a lavorare, chiaramente non seriamente, però qualcosina la facevo, iniziai a dare un valore diverso alle cose, perché quando i soldi te li guadagni, ci pensi due volte prima di spenderli. Così anziché sperperarli, li mettevo in un salvadanaio e cercavo praticamente di risparmiare il più possibile. Purtroppo adesso non lo trovo, ma avevo un diario di quando ero piccolo, nel quale segnavo ogni giorno quanti soldi avessi in quel salvadanaio. Praticamente erano sempre gli stessi per la maggior parte del tempo. Praticamente mi piaceva semplicemente contarli, boh, perché magari provavo qualche tipo di soddisfazione nel farlo. Con l'avanzare dell'età mi iniziai a chiedere se ci fosse un modo per guadagnare più soldi e far fruttare quelli che già avevo risparmiato. Inizialmente inizia ad approcciarmi al trading, però fortunatamente non ci ho mai investito, dal quale però poi ho conosciuto i vari strumenti finanziari, tra cui le cripto. Insomma, in breve, questo è un piccolo acceno della mia vita. Successivamente, se vorrete, potrò portare dei video in cui risponderò alle vostre varie domande. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un mi piace, un commento e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!